Libri e lettori nell'Atene antica, questo è il tema dell'incontro organizzato nel pomeriggio di venerdì a Palazzo Zicari nel cuore dei Sassi di Matera e che ha visto protagonisti tanti giovani, in particolare il FAI Giovani Matera in collaborazione con l'Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione di Matera è tornato ad interrogarsi sul rapporto di osmosi tra città e libri con una conversazione con il docente Massimo Pinto dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro dedicata a libri e lettori nell'Atene antica. L'incontro è stato introdotto da Carmelo Nicolò Benvenuto, capogruppo FAI Giovani Matera un momento inserito anche nelle attività del progetto PRIN PNRR 2022 dell'Università di Bari che promuove la diffusione e la condivisione dei discorsi sul libro e sulle biblioteche tra cittadini. Un'occasione, quella organizzata a Matera, per apprezzare il recente e sapiente restauro dell'antica dimora materana la conversazione è stata infatti preceduta da una visita inedita con testimonianze e narrazioni a cura dell'architetto Antonella Guida e di Vito Porcari dell'Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo.